No alla sovrattassa sui permessi di soggiorno. La CGL di Arezzo torna a prendere una ferma posizione sul contributo richiesto ai migranti. Lo fa proprio alla vigilia dell'udienza davanti al Consiglio dello Stato che si dovrà pronunciare dopo la richiesta del Governo che ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio con la quale si era cancellato l'ulteriore contributo che va dagli 80 ai 200 euro. Sui lavoratori migranti si stanno dicendo delle fesserie di continuo, si sta mistificando che portano via il lavoro. Non è vero per niente, niente. Anzi abbiamo una controtendenza preoccupante nel territorio. Dal 2014 al 2016 abbiamo circa 3.000 lavoratori stranieri in meno nel nostro territorio. Quindi questa la dice lunga. È una risorsa che manca. In più la tassa che è stata messa, oltre che essere ingiusta, è discriminante. Quindi bisogna cominciare ad avere il coraggio di dire di no. Intanto ha preso avvio anche una raccolta firme. Continuiamo la nostra azione di raccolta di firme per farsi restituire dal 2012, praticamente che il Ministero del Tesoro sta incassando questa tassa di soggiorno fino ai nostri giorni, sino a oggi. Noi confidiamo veramente nel buon senso, sperando che il 13 si pronunciano affinché questi lavoratori vengano considerati a tutti gli effetti come dei lavoratori, non come dei cittadini stranieri che si sono insalati in un territorio e che devono pagare una tassa. Al tema dei diritti dei lavoratori immigrati è interessata l'intera CGL, ma una categoria, quella delle costruzioni, lo vive in modo particolare. L'edilizia è un settore che siamo già in ginocchio, la gente ce la fanno più. Questa tassa da 80 a 200 euro è difficile che trovano i soldi.